Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Secondo le anticipazioni americane Steffi e Finn sono in fin di vita, dopo essere stati colpiti da due colpi d'arma da fuoco Steffi e Finn moriranno in Beautiful? Questa è la domanda che i telespettatori si stanno facendo in queste ore. Nelle puntate andate in onda tra venerdì e lunedì in America, è accaduto di tutto. Sheila dà il peggio di sé, quando ha un confronto accesissimo con la figlia di Ridge Facendo il punto della situazione, Steffi scopre il segreto della carter e decide di affrontarla faccia a faccia Ma questo confronto avviene in un vicolo, dove nessuno può assistere all'intera scena Si consuma così un vero e proprio dramma.Le anticipazioni americane rivelano che sia Steffi che Finn sono attualmente in fin di vita Si era già capito che la rottura tra Brooke e Ridge avrebbe creato tanti drammi all'interno della trama, per vari protagonisti Tra questi anche Thomas, il quale scopre il folle piano di Sheila contro la Logan e non sa cosa fare Il suo turbamento insospettisce Steffi, la quale indaga e trova la verità A questo punto, non si tira indietro e affronta, appunto, la carter Tra loro avviene un confronto che appare, sin da subito, rischioso Sheila minaccia più volte la Forrester, che non si lascia intimidire e le assicura che la terrà lontana da Finn e he is Furiosa, la carter estrae la sua pistola e la punta contro Steffi Intanto, il giovane medico corre verso il giardino e riesce a trovare la sua amata Per proteggerla si posiziona velocemente tra sua moglie e sua madre, prendendosi un proiettile nell'intestino Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che questo è davvero un momento drammatico Già diversi indizi avevano preannunciato che sarebbe accaduto qualcosa di terribile Steffi implora a Finn di non morire e prende il suo cellulare per chiamare i soccorsi Ma Sheila la blocca e le spara. Un proiettile colpisce anche la figlia di Ridge Proprio in quel momento, Taylor e Ree parlano di quanto potrebbe essere pericolosa la carter e si confrontano su Steffi Anche Bill e Liam, chiacchierando, citano più volte la giovane Forrester In particolare, il suo ex marito ammette che non può immaginare il suo mondo senza Steffi Ma nel vicolo ormai la stilista giace a terra priva di sensi a fianco a Finn Cosa fa ora Sheila? Fugge via, ma prima prepara la scena facendo apparire il tutto come un'aggressione, tanto che porta via con sé gioielli, borda e portafoglio Dopo aver baciato Finn va via e poco dopo arriva proprio dicono. Come già anticipato, è lui la prima persona che si ritrova di fronte a questa scena straziante Ovviamente, il padre di Hop chiama subito i soccorsi, affermando che c'è stato un asperatorio Non ha idea di cosa sia accaduto e probabilmente tutto girerà intorno a questo da ora in poi Anticipazioni ameritane Beautiful, Finn perde la memoria e Steffi in coma Era già stato anticipato, attraverso vari indizi, che sarebbe accaduto qualcosa di terribile a Steffi? Si pensava che sarebbe finita in coma e ora questa probabilità sembra farsi concreta Le anticipazioni fanno sapere che Sheila, in un certo senso, festeggerà Dunque, pare che qualcosa andrà come lei vorrebbe. Da questo si intuisce che Finn potrebbe perdere la memoria e Steffi finire in coma In questo modo, nessuno saprebbe cosa è davvero accaduto in quel vicolo Sicuramente Steffi sarà ancora in vita, visto che nelle prossime puntate americane i suoi cari si stringeranno a lei Non si comprende ancora bene cosa potrebbe accadere, invece, a Finn Morirà? Sembra che nessuno dei due perderà la vita, ma tutto può accadere nella sua popola D'altronde, c'è un momento scioccante che cambierà per sempre la trama Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video